per qualcuno però le priorità sono altre quando posso chiamare mai mai ti ha mentito non chiamerai mai ogni volta che dici chiamare c'ho un colpo al cuore me ne vado ma io sono contenta che lì abbia avuto la chiamata comunque si è la merita però a me la merita manchi io ma i due minuti incontrano da quando lui risponde o quando faccio il numero finalmente alice può chiamare il suo fidanzato tutti i giorni ci chiedeva ma le chiamate fatemi fare una chiamata non lo sento no quando lui risponde i tuoi minuti certo tu 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 basta un minuto ma che c'entra un albergo a cinque stelle guarda che siete bastardissimi no rossi aveva detto vieni io finalmente è arrivata la chiamata se non me lo fate chiamare dopo che mi avete fatto chiamare così tanto tempo mi sento male io dopo settimane di richieste mai 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 ascoltate da nessuno oggi chiamo marco allora l'unico telefono della caserma due minuti fai la tua telefonata dai ma io non ho numero come non è il numero no dai non numero veramente una volta che lo salvi sul telefono quello che ti serve ricordartelo allora non si fa la chiamata no non è possibile sbianco se non c'è il numero ma seriamente ma certo sì stai scherzando ci sei arrivata così vicino ma non ti ricordi non mi muovo no non mi muovo da letto per i prossimi tre giorni se non me lo fate chiamare te lo sciopero del sonno faccio lo sciopero di tutto e allora vai sciopero anche della fame volevo morire te lo giuro volevo morire ma dai meglio tutta la notte che ci penso ma questa è una cattiveria non è una cattiveria no no non sai il numero di telefono no ma non so manco il mio dai forza allora è la possibilità l'hai avuta dai ma non si può passare così male una persona però non è giusto adesso poi gli spacco l'ufficio o la chiamata me la fanno fare per forza hai lasciato forse tra i contatti in segreteria si chiama pumba però è pumba che animale è crudere leone l'istruttore rosso è stato molto molto carino di avermi aiutato anche perché cioè io impazzivo ecco il numero non dirlo a nessuno ti ho fatto questo favore ok due minuti di tempo fai la tua telefonata va bene grazie No, 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 no. No, no, no.